bravo basta adesso va via va a casa va a casa comincia a sbottonarti il giubbotto cioè questo aprilo però che fa caldo e sennò mori dentro lì e insomma guardare su devi guardare anche andiamo a fare la discesa dai bevi no quella sinistra adesso facciamo prima avete fatto tutti quella a destra dai dai l'abbiamo pulita io il chicco l'abbiamo già pulita io il chicco quella lì su dai guarda che qua c'è quella tana della volpe chi va dentro a cercarla questa è più facile no è una volpe una volpe grossa no è troppo grosso il tasso fa più piccolina è fuori grosso così il tasso ma però potrebbe anche essere andiamo di discesa del chicco chi va avanti gioseve ci vedete il gioseve via spampi demo andiamo no no adesso adesso è discesa non è che può dire macchina di cosa adesso è discesa di là di là no ragazzi di qua no no allora se non c'ho la pianta non va di là vai di qua non la sai